Si sta per concludere la manifestazione voluta dalla tifoseria Maranto, Regina 1914, una manifestazione molto importante che dà anche il senso di quello che è la tifoseria, ma un po' tutta la città vuole dimostrare appunto di appartenenza e di vicinanza a questo momento difficile del nostro club. Ovviamente noi come istituzioni abbiamo sentito il dovere di essere qui in piazza accanto a loro, più che dare rassicurazioni abbiamo dato la nostra disponibilità ovviamente a monitorare che gli step che vedranno l'avvocatessa Perna in prima persona affrontare da qui alle prossime settimane vengano rispettati per permettere ovviamente al club di potersi iscrivere al prossimo campionato. Questo ovviamente deve essere il nostro modo di operare da qui alle prossime settimane e lo faremo convintamente e sempre con un'attenzione a quelle che saranno ovviamente tutti i momenti importanti fino al prossimo 22 giugno.